Il nostro amico Gianpietro Guzzo, che ricordiamo essere responsabile del rifugio Lausen, lassù in Lessinia, che cosa ci fa qua in fiera e con chi è accompagnato? Ma come poteva mancare un vecchio cavaliere a un appuntamento così importante? Sono qui accompagnato da Marco Bortolotti, che è mio compagno da 35 anni, abbiamo iniziato a andare a cavallo insieme, e con degli amici della Maremma Laziale, che anche loro sono appassionati, oltre che della monta, diciamo, della parte equestre, anche della nostra Lessinia, perché vengono a trovarci spesso, noi andiamo da loro, loro vengono da noi. E qua, allora Gianpietro, entriamo nel merito dell'argomento che ci interessa, il turismo equestre, cioè il cavallo ha contatto con l'ambiente, quindi anche con la salute, no? Certo. Che fenomeno è questo? È un fenomeno che è un sport che può essere praticato a qualsiasi età, intanto, e a qualsiasi livello. Quello che noi vogliamo promuovere è l'equiturismo nella nostra Lessinia e comunque in tutta Italia, diciamo, perché abbiamo degli scenari nella Lessinia che sono indimenticabili.